I pasticciotti presentano l'alfabeto delle vacanze per ripassare insieme tutte le lettere. A come alba quando spunta il sole. B come buio quando arriva la notte. K come campi di girasoli. D come dolci gelati da gustare. E come estate divertente. F come farfalle colorate nel cielo. G come giochi all'aperto con gli amici. H come hotel, che sono tutti occupati. I come isola in mezzo al mare. L come luna grande d'argento. M come mare azzurro e calmo. N come nave lontana all'orizzonte. O come onde alte e spumeggianti. P come papere che nuotano nel lago. Q come quattro aquiloni colorati. R come rane che gracidano nello stagno. S come sonno che viene di sera. T come tuffi dal trampolino. U come uccelli che volano verso il sole. V come verdi prati di erba fresca. T come z come z come zucchero filato. Ricordando le vacante appena trascorse. I pasticciotti augurano buon inizio anno a tutti. Ciao e al prossimo video.